Siamo molto contenti della decisione che in questi giorni ha preso Ferrovie Nord perché trasforma una proposta che noi di NUD abbiamo presentato alla città in qualcosa di sempre più vero. Cosa abbiamo proposto? Di coprire i binari di Cadorna, quindi di ricucire un pezzo di città oggi non fruibile trasformandolo in uno spazio verde, uno spazio per tutti, trasformandolo in qualcosa di vivibile, cioè in un pezzo di città nuova. Per noi è una grandissima opportunità ma soprattutto una grande opportunità per la città, un interesse pubblico con un investimento privato.